E anche quest'anno arriva Alassio Magazine, siamo qua da Alassio, siamo al Gran Hotel, un posto incantevole. Alassio Magazine, terza edizione dopo il grande Geriscotti Antonio Ricci, quest'anno Simona Ventura in prima pagina, adesso diamo una linea subito a Elisa, una giovanissima per noi inviata, che ci presenta i protagonisti e diciamo cosa ne pensa anche il pubblico di Alassio Magazine. Vai Elisa! Alassio Magazine, nuova edizione. La prima è stata la più importante forse perché è stata veramente un momento di innovazione con in copertina Geriscotti e con un taglio legato al mondo della cultura, partendo da 100 libri che è una manifestazione importante alla Sina, la seconda, quella dell'anno scorso, abbiamo avuto l'onore di avere in copertina Antonio Ricci con un grande servizio dedicato ad Alassio, la città degli inglesi e questa è la copertina del terzo anno con Simona Ventura e con il tentativo di continuare questo tipo di missione, quello di raccontare le cose migliori che un territorio è capace di esprimere e produrre. Sfogliamo dei contenuti. L'idea è nata l'anno scorso, appena è uscito il secondo numero, sfogliando un giornale, cioè un libro con fotografie di un Alassio che non c'è più, di un mondo meraviglioso e abbiamo deciso di impostarla su questo discorso, su un discorso glamour, su un discorso di personalità, di VIP, di quando c'era la dolce vita ad Alassio e quindi complice, questo fotografo straordinario e un amico soprattutto che è Silvio Fasano, abbiamo cominciato a costruire il giornale. Siamo molto orgogliose di essere in questa rivista che ci hanno detto essere veramente importante e conosciuta, poi un numero all'anno, veramente un grande onore per noi. Abbiamo visto il servizio su di noi, è stato bello vedere come ci avete raccontato e poi adesso è bello vivere comunque ad Alassio questo percorso che ci sta avvicinando a momenti importanti della nostra stagione. E adesso qualche opinione dei nostri ospiti di Alassio Magazine. Alassio Magazine è una rivista meravigliosa che tratta degli argomenti estremamente interessanti e mette in evidenza molto bene la nostra città. Sicuramente un appuntamento annuale molto aspettato da tutti noi di Alassio. Alassio Magazine è una bellissima iniziativa, porta a questo modo di raccontare la positività ad Alassio, che è di un posto che è bello da frequentare. E dato che l'evento è molto fashion, è molto musicale, dove c'è musica, divertimento, eleganza, pittura, classe, c'è Rudy Mascheretti, Rudy Mass, e per questo è tutto, alla prossima edizione, ciao!